Amerigo Di Benedetto, un risultato sorprendente. Come si sente dopo aver aggiunto una tale consapevolezza di consenso? Sono molto felice, questo è indubbio, e quindi sono contento di una testazione di stima fortissima nei miei confronti e me la godo tutta. Il cosiddetto progetto Legnini, così sta passando anche a livello nazionale, pensa che sia un'esperienza replicabile, duratura oppure qualcosa di nato in maniera strumentale alle semplici elezioni regionali? Non in maniera strumentale alle elezioni, ma in maniera funzionale a una persona come Giovanni Legnini. Il fatto che possa essere replicato un impianto di questo genere trova le perplessità sulle figure che lo dovrebbero rappresentare. C'è l'esigenza secondo me di qualcosa di nuovo che possa proiettarsi su una cultura di governo che sia antisovranista, proposto e predisposto per una volontà di governare i processi amministrativi senza contrarietà. Perché la contrarietà non ripaga, paga nell'immediato ma poi non paga nel tempo. Io inciderò portando in Consiglio regionale il mio bagaglio di esperienze e la mia formazione professionale. Vedremo come sarà strutturato questo Consiglio, le qualità degli elementi che ne faranno parte e io sarò propositivo e di controllo. E come pensa che il centro-sinistra dovrà incidere sulla nuova azione di governo? Il centro-sinistra è una parola particolare per la proposta che ha fatto Giovanni Legnini. Io credo che ci sia invece la necessità di un coordinamento fra le parti lì dove le esigenze dovessero ritenerlo opportuno. Però sulle proposte è chiaro che ci serve una proposta alternativa ma incardinarla in un contesto così ampio deve necessariamente trovare una fase di approfondimento che in questo momento non c'è. Che messaggio si sente di rilasciare al suo, diciamo così, antagonista politico? Abbiamo visto anche alle primarie delle passate elezioni amministrative, Pierpaolo Pietrucci. Io non ho messaggi da lanciare perché io ho fatto una campagna elettorale mettendomi a disposizione di Legnini. Il resto per me non esiste, non è mai esistito e il consenso parla della proposta che ho fatto, che non è contro. È una proposta per cercare di incominciare a cambiare i metodi della politica e credo che stiamo a buon punto, soprattutto nella nostra città, alla luce di quello che è accaduto.